Se ti manca è amore, se sai aspettare è amore. Quando quella persona è lontana ti manca. La distanza non è un problema. Trovi sempre un modo per fare sentire la tua vicinanza. Quella persona per te è unica. Ti prendi cura delle sue emozioni. Quando pensi al futuro pensi a quella persona. È il tuo primo pensiero al mattino. È il tuo ultimo pensiero alla notte. Grazie mille per restare con Just Funny One. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie, un abbraccio forte. Grazie mille. Grazie mille.